allora riprendiamo e cominciamo a occuparci di questo esercizio nella prossima ora che sicuramente non usciremo a risolvere nella prossima ora riprenderemo ancora magari la settimana prossima mercoledì e semplice pretesto da un lato per fare qualche cosa che torna utile in quasi tutti i siti un elenco di voci ad aggiungere togliere così cominciamo a ragionare su come farlo funzionare e dall'altra un'applicazione che abbia bisogno di ricordare un pochino più lungo i dati inseriti un pochino più lungo intendo non solamente nel momento in cui sono stati inviati dal form ma anche più a lungo termine quindi di fatto dovremmo usare dei bin di sessione non c'è molto da spiegare sui bin di sessione dal punto di vista di come si utilizzano l'unica cosa dovremmo scrivere scopo uguale session anziché scopo uguale request e sappiamo che gli oggetti bin memorizzati nello di session rimangono vivi cos'è la sessione però? spendiamo due parole il protocollo http è un protocollo notoriamente senza memoria quindi ogni nuova richiesta che facciamo non ha nessun riferimento che possa permettere al server di sapere quali sono state le richieste precedenti dello stesso utente e questo di fatto impedisce di disporre della memoria di che cosa ha fatto l'utente in precedenza ad esempio di quali voci della lista della spesa l'utente l'aveva inserito in precedenza però la maggior parte dell'applicazione web di questo tipo di memoria è fondamentale allora come si fa a dare memoria a un protocollo che invece di memoria non ne aveva? il meccanismo che si usa è un meccanismo abbastanza contorto che è basato sui cosiddetti cookies un cookie è una piccolissima stringa di testo che viene inviata dal server al browser nel momento in cui si fa una richiesta nel momento in cui il server risponde a una richiesta fatta dal browser e un breve frammento di testo anche qui di nuovo una copia nome uguale valore con la promessa, il browser fa la promessa che tutte le volte che in futuro quel browser contatterà quel server nel messaggio HTTP di richiesta rimanderà al server una copia del cookie che aveva ricevuto questo fin tanto che il cookie non arriverà alla propria scadenza temporale perché in questo messaggino è anche impostata una data di scadenza quindi è come se io parlassi con io sono gioco la parte del server sono una persona totalmente smemorata per cui anche durante una conversazione tu mi dici una cosa io ti rispondo e nel momento in cui ti rispondo mi sono già dimenticato di te quindi quando tu mi dici la frase successiva io non ti conosco più e quindi non so il contesto nel quale tu stai continuando la conversazione contate che su questo tema qui ci hanno fatto dei film alla ricerca di Nemo in avanti sul fatto che uno dei due perde la memoria a metà di una conversazione allora come faccio io a comportarmi in modo socialmente accettabile se ho questo difetto di memoria e io ti chiedo un favore guarda quando parli con me per favore io ogni volta che ti rispondo ti do un bigliettino perché so che poi mi dimenticherò di te ma la promessa che tu mi fai è che quando continuerai la conversazione mi riderai quel bigliettino che cosa posso scrivere su quel bigliettino quindi tu non sei tenuto a leggerlo o a capirlo quel biglietto sei tenuto semplicemente a ridarmelo quando mi parlerai di nuovo cosa posso scrivere su quel bigliettino beh potrei scrivere la trascrizione della conversazione che è avvenuta finora così quando mi riderai il bigliettino tu mi fai una domanda dici una frase io prima di rispondere dico aspetta un attimo vado a leggere chi sei cosa ci siamo detti ah sì ho capito allora riesco a risponderti alla domanda che mi hai appena fatto quindi questo cookie potrebbe contenere le informazioni che il sito ha a proposito dell'utente però questo sarebbe molto pericoloso perché a questo punto visto che il bigliettino l'ho dato in mano tua a utente nessuno vieta all'utente di taroccarlo prima di ridarmelo indietro e quindi convincermi io che sono smemorato che ci siamo detti una cosa mentre in realtà ce ne eravamo detti un'altra che il saldo in banca mio è di 2 milioni anziché di 200 euro allora se l'utente riuscisse a convincervi di questo il server farebbe cose che l'utente potrebbe convincermi che lui ha fatto il login e mi ha dato la password giusta mentre in realtà mi ha dato quella sbagliata io sul bigliettino avevo scritto o hai sbagliato il login ti ho dato il bigliettino e tu anziché di darmi quello me ne dai un altro no no non funziona allora noi abbiamo purtroppo dobbiamo fidarci dell'utente per poter risolvere i nostri problemi di memoria ma non possiamo fidarci dell'utente perché non possiamo fidarci del contenuto dell'informazione l'unica opzione che abbiamo l'unica via d'uscita è di mettere nel cookie un'informazione che l'utente non possa capire e non possa modificare ma questa informazione non contenga nulla a proposito del del discorso diciamo così intercorso tra me e l'utente che cosa ci mettiamo lì dentro? un numero quindi questo bigliettino che ti do non c'è scritto il riassunto della conversazione che abbiamo fatto ma c'è scritto un numero di 27 cifre una cosa spropositata un numero casuale io ti do questo bigliettino poi io nel server mi salvo da qualche parte un bigliettino più lungo in cui ho il numero la copia del numero che ti ho dato e la trascrizione della conversazione tutti i dati che ho su di te quindi nel server viene memorizzata delle informazioni relative alla sessione adesso cominciamo a chiamarla così la sessione è identificata da un numero all'utente attraverso il meccanismo dei cookie viene ogni volta impostato e rinfrescato e ricordato lo stesso numero quindi ogni volta che l'utente si collega al sito come prima cosa se il primo collegamento non ha nulla da fornire se non è il primo collegamento fornisce il numero che aveva ricevuto in precedenza il server cosa fa? va a vedere questo numero e controlla se tra i propri bigliettini ce n'è uno il cui numero corrisponde se così sblocca la sessione quindi ottiene da quel bigliettino da quel dato in sessione le informazioni sull'utente e quindi può rispondere l'utente non può barare a questo gioco perché se lui cerca di cambiare il numero di fatto il server si vede arrivare a un numero che non corrisponde a nessuna sessione valida per questo il numero lo facciamo di 20 cifre perché le probabilità che lui ci azzecchi un numero di una sessione di un altro utente attualmente attivo che guarda caldo da proprio quel numero lì devono essere infinitesime e quindi non deve valer la pena provare a fare il cosiddetto session hijacking cioè dirottamento delle sessioni inizio con un utente poi cerco di diventare un altro quell'altro utente dovrebbe essere collegato nello stesso momento dovrebbe avere una sessione attiva io devo riuscire a indovinare qual è il suo numero di sessione del cookie è sufficientemente improbabile affinché questo non avvenga nella pratica allora questo è un meccanismo di basso livello a livello di protocollo http che permette al server di avere un meccanismo per ricordarsi dell'utente questi cookie questi bigliettini il server di tanto in tanto li butta via nel senso che si accumulano tutti gli utenti che visitano il sito appena fanno una prima richiesta quindi fanno una richiesta get utente nuovo non ha nessun cookie non ha nessun bigliettino il server ne genera uno nuovo e si crea il bigliettino vuoto con scritto nulla per ora ma gli da indietro il cookie all'utente in modo che con l'utente lo possa rimandare poi queste sessioni si accumulano nel tempo di tanto in tanto il server fa pulizia quindi di fatto ogni cookie ha una sua data di scadenza passata alla quale il browser non è più tenuto a mandare il cookie al sito quindi il cookie che vi ho dato oggi non lo potete riusare domani e il server non è più tenuto a ricordarsi le informazioni questo succede su molti siti su cui magari eravate collegati stavate facendo qualcosa poi arriva una telefonata c'è il panino uscito un attimo con l'amico tornate provate a cliccare sulla pagina e vi dice no la sessione è scaduta deve ridare la password e questo è successo che il cookie aveva una data di scadenza inferiore al tempo di inattività che voi avete mostrato su quel sito e quindi il cookie è scaduto il server si vede arrivare una richiesta per una pagina interna che è accessibile solamente agli utenti collegati ma questa richiesta non è accompagnata da un cookie valido perché il browser non glielo manda più perché è scaduto ma se anche glielo mandasse il server sa che quella sessione è scaduta e quindi dice no caro ripassa dall'ingresso e riprenditi un cookie nuovo oppure ci sono dei siti invece che impostano dei cookie cosiddetti permanenti quei siti in cui c'è ricordami su questo computer quando faccio login allora questo imposta un cookie permanente sul server che non scade dopo 20 minuti ma scade dopo anni magari o dopo mesi e allora questo permette chiaramente per il server è più complicato ovviamente il server che so di facebook non potrà tenersi in memoria tutte le sessioni di tutti gli utenti che hanno detto ricordami su questo computer del mondo quanta memoria gli serve nel caso dei cookie permanenti il server avrà un lavoro un pochino più complicato di andare a congelare queste sessioni su database e ritirarle su quando poi l'utente effettivamente si collegherà quindi c'è un cookie permanente e un cookie temporaneo che interagiscono ma questi sono già meccanismi più complessi noi sappiamo che a basso livello tutto si regge su questi numerini che vengono scambiati tra virgolette criptograficamente forti cioè difficili da indovinare dal punto di vista pratico però dentro l'ambiente gsp il tutto è molto semplice perché quando noi scriviamo scopo ugual session per un bing questo bing verrà messo no il famoso bigliettino verrà memorizzato scritto sul bigliettino associato al numero di sessione corrente io non devo preoccuparmi come programmatore se voglio posso vederlo accedere modificare tutto ciò che voglio ma normalmente non mi devo preoccupare né di generare le sessioni né di farle scadere né di gestire di fatto questo contenitore di cookie che in realtà non è un contenitore ma sono tanti i contenitori uno per ciascuna sessione attiva fa tutto Tomcat poi se voglio lo posso controllare fin dei minimi dettagli ma se non mi interessa lascio che faccia lui quindi estremamente semplificato con altri ambienti le cose sono un pochino più complicate un pochino più esplicite un pochino più a basso livello la gestione mentre qui per fortuna è del tutto trasparente al punto che ricordo di aver parlato con delle persone che usavano GSP professionalmente gli ho chiesto in contesto di un concorso un esame o qualcosa di questo genere non ricordo più cosa fosse gli ho chiesto spiegami le sessioni non mi ha saputo dire cosa fosse un cookie proprio perché il programmatore non vede nulla di tutto ciò noi per fortuna conosciamo anche un po' di più il protocollo quindi riusciamo a capire non solo sapere che funziona ma anche capire come vabbè veniamo a questo esercizio che ovviamente ha bisogno di usare dei bing in sessione lo leggiamo ci ragioniamo proviamo a fare il progetto e poi iniziamo l'implementazione si crea una semplice applicazione web per gestire una lista della spesa o una lista di voci o una lista di idee geniali che avete avuto quello che volete l'utente può inserire un elenco di voci libere che sono di fatto delle stringhe di testo e su tale elenco è possibile aggiungere cancellare e riordinare le voci ogni voce della lista è caratterizzata da una data di inserimento questa magari la facciamo dopo non la facciamo subito è richiesto anche di creare una versione stampabile della lista ossia priva degli elementi di interfaccia utente cioè è brutto stampare una pagina dove c'è scritto inserisci cancella e inoltre deve essere possibile azzare la lista e ricominciare da capo proprio il minimo indispensabile via allora qui questo esercizio può essere molto generale ma come quasi sempre si parte da dei requisiti che sono requisiti funzionali cosa deve poter fare l'utente sta poi a noi progettare una soluzione che lo faccia o che gli permette all'utente di farlo in un certo modo con una certa soluzione impareremo alla fine del corso a farlo in modo totalmente dinamico come succede con i siti attuali in cui si viene la voce si aggiunge c'è l'animazione si apre lo spazio si infila al posto giusto faccio il drag and drop tutte queste cosette carine ma abbiamo bisogno di tante altre cose prima di arrivare a quel punto allora io quello che mi immagino leggendo questo testo in realtà sto barando perché me lo sono immaginato quando l'ho scritto è una pagina tipo fatta grosso modo sotto forma di tabella in cui fatemi fare una tabella in word in cui ho la voce le varie voci la lista qui è la lista della spesa quindi devo comprare il prosciutto devo comprare caramelle mai star senza devo comprare detersivo e le pile che si scaricano sempre nel mouse questo non è all'inizio chiaramente mi immagino la pagina tipo a metà del sito poi ci porremo è sempre più spesso più comodo partire da un caso intermedio non dall'inizio non dalla fine e poi dopo si va a studiare quali sono i casi allora su una pagina tipo di questo genere che cosa posso fare posso cancellare una voce c'è scritto spostarla o aggiungere una nuova oppure eliminare tutto allora poi abbiamo vari stili di programmazione per cancellare una voce io potrei mettere magari a fianco di ciascuna voce per questo ho fatto dalla tabella due colonne un bottone elimina e quindi posso mettere tanti bottoni elimina per ciascuna voce poi che siano dei bottoni o che siano delle iconcine con la X rossa cambia niente è un link e così come a fianco di ciascuno posso mettere spostalo più in su quindi che sarebbe la frecciolina in alto ma non ho un'icona sotto mano oppure sposta più in giù la voce ovviamente la prima voce non può essere spostata in su l'ultima non può essere spostata in giù dovremmo giocare con l'impaginazione per fare qualcosa di decente poi magari le mettiamo una sopra l'altra ma questa è grafica e poi ci manca ancora svuota ma svuota tutto lo possiamo mettere un bottone sotto e poi le parti difficili sono aggiungi e modifica aggiungi una voce nuova e modifica una voce esistente poi c'è stampa allora scriviamo qua versione stampa che ci porta alla versione stampabile ma questo di nuovo è facile allora come scegliamo lo stile di aggiunta io potrei fare un bottone qua sotto aggiungi e quando l'utente clicca su aggiungi mi porta una pagina nuova vuota con solamente un campo di testo in cui io posso scrivere scrivo ok e tornerò a questa pagina con la voce già aggiunta questo è un modo ok clicco su aggiungi vado su una pagina nuova sulla pagina ci sarà il testo da aggiungere e ritorno indietro è una possibilità l'altra possibilità che mi viene in mente invece è quella di avere un campo di testo vuoto e un bottone aggiungi a fianco quindi mi predispongo già in questa tabella una riga in più magari un po' distaccata poi vediamo come ottenerlo a livello di layout in cui ci sia un campo di testo che inizialmente è vuoto con a fianco il bottone aggiungi quindi per aggiungere una nuova voce posso semplicemente cliccare scrivere e cliccare sul bottone aggiungi o sul link aggiungi adesso vediamo cosa sarà questo deve essere un bottone di altri no sono due modi diversi ne scegliamo uno poi chiaramente il resto del progetto sarà diverso avrò più o meno pagine gsp e quelle che io magari ne ho di più più semplici oppure ne ho di meno più complessi ma questo devo dire mi piace un po' di più anche l'elimina facciamo una parentesi sull'elimina si potrebbe fare in due modi diversi uno è avere questi bottoni qua vicino e uno invece avere una casellina di spunta a fianco di ciascuna voce che sia un radio batto che sia una checkbox e poi avere sotto una voce elimina selezionati le voci selezionate è di nuovo un modo completamente diverso o l'uno o l'altro non ha senso di solito averli entrambi quindi o ho un link a fianco di ciascuna voce oppure seleziono posso selezionare questa ma non questa ma non questa ma non questa e poi clicco su elimina le voci selezionate e verrà ovviamente eliminata questa perché quella selezionata avrete sicuramente in mente dei siti web in cui funziona in un modo e in cui funziona nell'altro dal punto di vista pratico questo è un form che contiene un dato solo che è il numero l'ID l'identificatore di questa voce un form che contiene un campo solo probabilmente un campo idden che non è lo stesso che abbiamo visualizzato qua e ci sarà un controller che cancella esattamente quella voce lì in quest'altro caso c'è un form che contiene n caselle checkbox e quando invio invia gli identificativi i nomi delle caselle che sono state spuntate alla fine la sostanza è la stessa al server arriva una richiesta a un controller e in questa richiesta c'è il nome l'ID il numerino adesso dobbiamo decidere come codificare queste cose arriverà l'identificatore della riga da cancellare in entrambi i casi a livello HTML sarà molto diverso ma a livello di informazioni di dati è lo stesso quindi una scelta più di design che non di funzionalità l'unica differenza è che con questo elimina le voci selezionate potrei eliminarle più di una contemporaneamente allora magari c'è la casellina in alto seleziona tutte tutte le cose che conosciamo magari andrei per la prima soluzione in questo caso però teniamo presente anche la seconda nulla vieta di implementarle entrambe nel nostro sito per ora direi di no quindi questa cosa qui la facciamo magari un colore poco visibile per ricordarci che ci abbiamo pensato ma che poi non portiamo avanti in questo progetto se uno vuole provare a farlo nei due modi se uno vuole provare a farlo nei due modi abbiamo la traccia del ragionamento aggiungilo lasciamo così modifica modifica è quello più rognoso perché non siamo ancora capaci a fare le pagine web dinamiche perché al giorno d'oggi modifica vuol dire cliccare su questa voce e quindi da un testo normale si trasforma per magia in un campo di testo che posso editare poi confermo e lo chiudo non siamo ancora capaci a farle queste cose lo saremo ma oggi non ancora quindi l'unico modo che conosco è due modi che conosco sono o rendere questo sempre un form quindi metterlo non metterlo come testo ma metterlo già come casella di testo e quindi avrei una tabella fatta di tante caselle di testo una fianco dell'altro di un brutto da vedere che non si immagina oppure metto del testo normale lo posso formattare come voglio e metterò un bottoncino modifica qui scusate mi sono addormentato sullo spazio aggiungerò un bottone modifica questa volta cliccando su modifica andrò in una nuova pagina non posso fare altro con le conoscenze che abbiamo al momento in cui ci sarà una casella di testo una sola solo lei già precaricata col prosciutto col valore della voce corrente farò ok e torno indietro non riusciamo a fare tanto di meglio e quindi possiamo pensarlo così poi ovviamente al posto di modifica immaginatevi vedete uno sforzo di fantasia l'icona con la matitina questa è la nostra pagina tipo abbiamo scelto come deve essere fatta adesso dobbiamo decidere cosa ci sta dietro a ciascuno di quei link a ciascuna azione dell'utente questa è la vista dell'utente che sarà generata da una certa view la view per generare questo dovrà semplicemente avere da qualche parte informazione sulle voci che sono attualmente visualizzate queste voci visto che sono sempre le stesse che poi vengono aggiunte modificate remescolate ha senso metterle dentro un bin di sessione se non fosse un bin di sessione ogni volta che premo un bottone elimina ad esempio dovrei insieme a questo bottone mandare non solamente l'id della voce da eliminare ma tutte le altre voci in blocco dovrei ridilarle ogni volta come facevamo come facevate nella prima esercitazione in cui eravate obbligati a mettere dentro i campi nascosti dei dati perché altrimenti venivano persi per sempre quindi per non darci complicare la vita è vero che si possono ricopiare ripassare i dati centomila volte ma macchinoso viene efficiente e soprattutto obbliga ogni volta che passa una pagina all'altra di farlo con un form che si porta dietro tanti campi nascosti a noi non interessa nessuna di queste cose i dati se li elenco se li ricorda il server quindi questa view genererà l'elenco a partire da un bing ma che sarà un bing di sessione poi cambia niente nel senso che è sempre un bing al cui la interrogo dammi la lista e lei genera ok dopodiché quindi ci dobbiamo immaginare un bing che sia in grado di memorizzare questa struttura dati un elenco di stringhe pensiamola già un po' generica che magari dentro ci metteremo poi la data in un secondo momento e poi uno o più controller che possano agire a fronte delle azioni che l'utente può fare quali sono le azioni che l'utente può fare una due tre quattro cinque sei sette quindi o abbiamo sette controller diversi o avremo un controller solo che gestisce sette azioni diverse sta a noi o qualunque mix magari il suo il giù lo faccio gestire dal stesso controller modifica da uno diverso lo aggiungi da uno diverso decido io fa parte del nostro progetto in prima istanza ogni azione dell'utente deve essere lavorata in modo diverso quindi tendenzialmente richiederebbe un controller diverso modifiche e aggiungi forse sono abbastanza simili ma non saprei neanche se vale la pena di cercare di tanto abbiamo visto i controller quanto sono lunghi di solito sono poche poche istruzioni quindi non ha neanche senso cercare di fare economia mentre sulle viste un pochino di più perché sono più complesse non difficili ma complesse in termini di codice va bene allora fatto così fatto questo ragionamento possiamo provare a immaginare sia la struttura dati almeno le parti principali sia le pagine di cui è composta adesso potremmo metterci a fare lo schemino ma tra l'altro questo sito gira su due pagine sole viste dall'utente questa in cui ciascuna azione ogni volta che clicchiamo su uno o qualsiasi di quei bottoni ritorniamo sempre qui sempre questa pagina un po' diversa ma sarà sempre lei perché aggiungo e tolgo le voci ma sarà sempre la stessa pagina tranne in un caso c'è il caso della stampa che mi porta in una pagina invece che contiene solamente queste cose senza tutti gli elementi di interfaccia grafica quindi questo già mi fa capire che avrò probabilmente due sole view in tutto il mio sito perché ho due soli tipi no tre scusate tre perché c'è la modifica modifica mi deve portare un'altra pagina che ha solamente il form di modifica quindi avrò la pagina tipo che è quella normale poi se vogliamo proprio essere pignoli avrò la pagina di stampa e poi avrò la pagina di modifica la pagina di modifica è facile perché avrà semplicemente un form con una casella di testo con scritto un dato già predefinito però il posto per scrivere altri e a fianco ci sarà la voce ok oppure modifica oppure annulla va bene registra questa modifica oppure annulla e torna alla pagina precedente ha solo questo questa pagina mentre la pagina stampa avrà questo elenco nudo senza elementi di interfaccia utente magari ha un bottone in fondo un link in fondo semplice piccolo piccolo che non si vede torna alla pagina precedente oppure più probabilmente lo facciamo aprire in una nuova finestra così poi l'utente stampa e se la chiude e qui non ho elementi di interfaccia utente quindi ho queste tre pagine e da cui possiamo già anche sbilanciarci e chiamarle view lista punto gsp view modifica punto gsp e view stampa punto gsp a meno che non ci accorgiamo di cose strane per cui questo view lista in condizioni diverse deve fare cose diverse allora magari ne avremo bisogno di due viste che generano una cosa simile ma al momento non mi pare e il controller potremmo fare a questo punto un controller per ogni azione chiediamoci i dati che servono all'azione aggiungi serve un'informazione sola che è il testo da aggiungere alla pagina modifica serve un'informazione sola che è la voce da aggiungere la 1 la 2 la 3 la 4 così come la elimina così come la su così come la giù sono azioni che richiedono un parametro solo qual è la voce su cui voglio fare questa azione al controller poi ovviamente il controller per generare questa vista nel caso della modifica dovrà andare anche la vista dovrà sapere qual è non solamente il numero di voce ma anche il testo che conteneva in questo form nascosto da qualche parte deve essersi anche il numero perché io sto modificando quale voce la 1 la 2 la 3 ma non è necessario questo numero mostrarlo all'utente questa pagina non ha bisogno di niente nessuna informazione specifica prende il contenuto del bing e lo riversa a video allora il controller a questo punto abbiamo detto che se ne facciamo uno per ciascuna per ciascuna azione avremo un do aggiungi .gsp a cui passo una voce come parametro avrà un parametro che possiamo chiamare voce quindi avremo già un input type uguale text name uguale voce la voce della lista della specie poi avrò un do elimina .gsp a cui passo il numero della voce la prima la seconda la terza avrò un do come si chiama su un do modifica .gsp a cui passo il numero della voce di nuovo l'utente vuole modificare la voce 3 e poi un su e giù potrei chiamare due controller diversi oppure un controller per fare un esempio facciamo un controller unico do su giù .gsp a cui passo il numero voce e poi un campo che dica up oppure down per fare un esempio di un controller che in realtà faccia più azioni diverse simili tra di loro in questo caso e poi un controller per do pulisci tutto come l'ho chiamata la voce vuota tutto .gsp non ha bisogno di nessuna informazione lui è uno violento ruota tutto e basta e poi c'è uno stampa .gsp 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 nel senso che potrebbe coincidere con la view stampa perché veramente non ha niente da fare questo però per simmetria possiamo indicarlo poi vuoi mai che un domani mi arriva uno che mi dice sì ma io voglio sapere quante volte l'hanno stampata perché mi serve come statistica allora se ho il controller faccio in fretta andare lì a incrementare un valore se invece vuole view non è altrettanto semplice quindi il nostro progettino per il momento dobbiamo fare non abbiamo ancora capito bene i bings che dobbiamo costruire ma dal punto di vista delle pagine gsp abbiamo deciso che abbiamo bisogno almeno di tre pagine di vista e sei di controller i sei controller sono di due righe ciascuno non è molto il lavoro lo fanno i bing sempre nel 90% dei casi questi controller delegeranno al bing ah c'è il 2 elimina della voce 3 bing elimina la voce 3 lui non fa nulla non è lui che va a maneggiare il bing che avrà i metodi elimina quindi tutti questi metodi qui che dobbiamo fare sulla struttura dati elenco di voci cioè la lista della spesa corrisponderanno a tanti metodi di questa struttura quindi magari partiamo dalla progettazione del bing poi dopo sarà facile costruire i controller e le viste sovrastanti allora facciamo un nuovo progettino web application lista spesa allora partiamo abbiamo detto dalle classi e proviamo a immaginarci che cosa ci serve ci serve un bing che sarà lista spesa bing lista spesa bing la mettiamo in un package creato l'uopo questa lista spesa bing dovrà di fatto gestire un elenco di voci e quindi si dovrà appoggiare anche lei su un oggetto più semplice che è la voce è vero che la voce è solo una stringa però non è detto che domani dobbiamo aggiungere la data e altre informazioni alla voce quindi facciamoci un oggettino in più che lo chiamiamo voce queste due classi minime lista spesa bing e voce la classe voce conterrà togliamocela dai piedi perché è facile la voce vera e propria e per il momento niente abbiamo detto che la data ci pensiamo in un secondo momento e mi faccio generare il get is set per il campo voce questa non è detto che debba essere un bin non andremo quasi mai a mettere come bin quella beh sì no sto pensando alla modifica il campo modifica eventualmente lo trasformiamo in un bin basterà aggiungere poi il costruttore senza parametri per ora metto un costruttore di quelli veri con i parametri così sono sicuro che quando la costruisco ci metto un valore vero public string public voce string voce dis.voce uguale voce questo è il motivo questo è il motivo per cui Java lo odia in tanti che per fare un oggetto che ha bisogno di una cosa sola servono 40 righe di codice ma va bene a questo punto la lista della spesa bing genererà gestirà una lista un elenco di oggetti di tipo voce possiamo usare uno o qualsiasi dei metodi delle collection di Java ad esempio un array list per mantenere questa voce l'array list è ordinato ogni elemento ha un numero di fatto che è una sua posizione poi potremmo scegliere ma il discorso sulle collection magari non so se l'abbiate affrontato bene in passato se no magari ci dedichiamo una mezza lezione una volta per andare a rinfrescare o studiarle la differenza ad esempio tra un array list e una sorted list o una linked list dal punto di vista dell'efficienza dell'inserimento e cancellazione dei dati per ora l'efficienza non ci interessa abbiamo una lista di 5 voci quindi una cosa va dell'altra quindi noi dovremo gestire una lista di voci e lo chiamo spesa ok questo list ovviamente nel java.util e questa lista è il vero contenuto del sito cresce diminuisce aumenta si spostano le voci abbiamo un costruttore public lista spesa bin e siamo obbligati ricordiamoci a dare un costruttore senza parametri perché questo vogliamo che sia il bin andrà a finire in sessione return type required ah perché ho dimenticato una allora come va inizializzata una lista della spesa vuota senza niente con un nuovo lì oggetto in cui non ho ancora inserito nulla quindi spesa uguale new array list di voce java.util punto array list quindi qui crea una lista valida con zero elementi al suo interno e poi definiamo le operazioni di base che possiamo fare su questo su questo bin su questo elenco qui ci sarà un metodo aggiungi public aggiungi che riceve come parametro una voce o una stringa adesso ci fa poca differenza riceve come parametro un oggetto voce oppure un oggetto stringa dipende se noi pensiamo al futuro quando ci sarà la data da indicare anche la data chi la decide questa data la data di inserimento allora se la decide il metodo aggiungi la cosa più corretta è passare una stringa qui e poi ci sarà il metodo aggiungi che costruisce l'oggetto voce e gli assegna la data dell'istante corrente se no invece questo va fatto prima possiamo anche decidere di avere due metodi uno che diceva una stringa e uno che diceva una data per ora diciamo string voce string testo chiamiamolo così per distinguere dall'oggetto voce e public void questo qua non ha bisogno di restituirmi nulla e cosa dovrò fare devo costruire una nuova voce da inserire nella lista che contiene questo testo e poi spesa.add di voce poi abbiamo l'elimina aggiungere si può sempre fare poi pensiamo al caso di elimina public fatemi scrivere boolean elimina della voce la posizione della voce che voglio eliminare la prima la seconda la terza così via basta semplicemente prendere spesa e tra i vari metodi che ha spesa ha un metodo remove elimina un elemento della lista gli passa un oggetto cioè rimuove un oggetto specifico oppure in questo caso l'indice rimuove l'elemento nella posizione specificata nella lista sposta ogni elemento successivo all'insù quindi sposta all'indietro ritorna l'elemento vabbè che è stato dimosso dalla lista attenzione che questo index deve essere compreso da zero e la dimensione della lista se no mi spara un'eccezione che non voglio fare cosa che non voglio che succeda allora remove posizione voce ma solamente se quindi innanzitutto controlliamo se posizione voce è maggiore o uguale a zero e posizione voce è minore di spesa punto size quindi va da zero alla size meno uno allora rimuovilo aspetta graffa allora rimuovilo e dimmi che ce l'hai fatta altrimenti ritorna un booleano che dice falso cioè non lo non sono riuscito a farlo così il chiamante si vede ritornare non un'eccezione non è che faccio il trovo di un'eccezione ma un valore vero falso da cui lui in teoria potrebbe controllarlo già prima ma questo metodo nel peggiori dei casi non fa danno se dico elimina elemento milla e quello non c'è non fa niente modifica e qui sto di fatto creando dei metodi un pochino più facili da usare intorno alle funzionalità di base dell'interfaccia list non sto facendo nulla di public boolean modifica allora modifica che cosa ha bisogno ha bisogno della posizione della voce da modificare e il nuovo testo giusto allora anche questo farà un ragionamento simile cioè la voce allora la posizione è giusta o no quindi se la posizione voce è quella giusta allora fai qualche cosa sostituisci l'elemento altrimenti allora sostituire l'elemento significa creare una nuova voce che è quella nuova uguale new voce di nuovo testo e poi la inseriscono nel posto giusto della lista lista punto di spesa spesa punto anche qui magicamente c'è un metodo set che rimpiazza l'elemento nella posizione specificata nella lista con quello che ti passo come parametro quello che cercavo l'importante è cercare sempre cose che sai di trovare gli passo la posizione della voce e nuova guarda che è stato capace di trovare i parametri altrimenti non fai nulla ritorna falso così il chiamante eventualmente può e così via qui abbiamo questo bin quindi che si gestisce da solo poi cominciamo già a immaginarci il lavoro del controller che sarà sempre più semplice abbiamo fatto aggiungi modifica e su e giù sono quelli un pochino più complicati perché devi cancellarne due e rinfilarli nel posto giusto è un po' più pesante magari ci pensiamo dopo perché non c'è già nell'oggetto lista non c'è già un metodo per spostarli di posto ok per ora poi le aggiungeremo direi che questi sono i metodi minimi ah e poi mi servono i get mi serve un metodo per restituire la lista in modo che la possano stampare ovviamente quindi sarà un public get spesa e ritorna un list di voce e il getter del mio campo spesa ovviamente return spesa non c'è un setter non posso forzare una spesa intera in blocco la devo costruire un pezzettino per volta giustamente non posso farla rimpiazzare a forza da qualche cos'altro a questo punto abbiamo questo e possiamo già cominciare a costruire sulle spalle di questo get spesa la nostra vista la vista la mettiamo come una pagina che si chiamava quella principale la più importante era violista punto gespi non devo mettere l'estensione quindi il titolo è lista della spesa lista della spesa e lista della spesa come prima cosa questa lista della spesa gespi due punti usebin richiamiamo il famoso bin lista spesa bin quindi id uguale lista spesa class uguale id una volta faceva l'autocompletamento ma solo quando ha voglia lui lista spesa scope uguale session allora mettiamolo in modo leggibile id politola cosa ho sbagliato manca ah grazie certo se avesse funzionato subito l'autocompletamento evitavo il problema va bene ok allora questo qui può anche essere la pagina di partenza perché abbiamo creato il bin in modo che lui nel momento in cui lo richiami il suo costruttore costruisce una lista della spesa vuota noi dobbiamo mettere nel body adesso a questo punto dobbiamo mettere creare questa tabella qua possiamo proprio farla come table html che contenga al fondo anche questo campo aggiungi che lo aggiungiamo noi a mano e poi questi due bottoni o link possiamo anche fare sotto forma di link facciamo magari sotto forma di link così è più facile poi sostituire il testo con l'immaginina allora lista la spesa table una tabella html di due colonne più righe le righe sono le le creo a partire dal dal bin quindi creerò delle righe di questo tipo ne metto una come esempio tr td prosciutto e poi avrò td modifica elimina su e giù una cosa del genere in ogni riga in ogni tr ho una prima td una prima campo un primo dato una prima cella che contiene il testo la seconda cella che contiene sempre i bottoni ovviamente questa riga dovrò replicarla scandendo generando la lista quindi entro in java e genera metto un commento genera righe del tipo di questo tipo qua questo lo lascio come commento quindi a questo punto entro un campo java in cui prendo la lista della spesa che è attualmente memorizzata nel bin che se la prima volta sarà ancora vuota quindi itero vuoto e genero le righe corrispondenti quindi avrò voce v che itera tra che cosa tra lista spesa punto get spesa spesa e poi questa voce lui dice che cos'è perché non ho importato la classe ma me lo faccio aggiungere quando importo la classe mi aggiunge in testa page import uguale lo faccia lui e per ciascuna di queste voci genererò allora out punto print line tr sicuramente td facciamolo pezzettini per non concatenare out punto print trtd print la voce quindi abbiamo v punto ci siamo dimenticati un pezzo nella classe voce ah no get voce pardon get voce ok prosciutto sarebbe poi devo aggiungere out punto print il barra td e poi un nuovo td che è la seconda cella della colonna cioè la cella della seconda colonna che conterrà i vari link per le azioni e e poi alla fine chiuderò ancora quindi qui aggiungo scusate un commento link per le azioni che mi metto tra un secondo perché dobbiamo pensare a come farle e poi alla fine chiudo la cella e la riga mettiamo anche un print line così andiamo a capo nell'html quindi abbiamo costruito la singola riga dobbiamo ancora mettere il link per i bottoni e alla fine della tabella in questo caso la prima volta sappiamo che sarà vuota questa tabella questo ciclo for viene eseguito zero volte poi alla fine abbiamo ancora un'ultima riga che conterrà l'aggiungi quindi si sarà l'input type uguale text name uguale uguale voce e questo va messo dentro un form adesso qui è sempre un casino form perché il form deve contenere sia la casella di testo che il bottone di invio però la casella di testo e il bottone di invio sono in due celle diverse della tabella form action uguale sarà il do aggiungi l'abbiamo chiamato vero? non abbiamo ancora scritto il do aggiungi ma fa lo stesso perché ormai avendo fatto il progetto non abbiamo disegnato ma abbiamo definito i termini essenziali possiamo scrivere sapendo che ci sarà e quindi allora form action 2 aggiungi questo form comprende una cella della tabella con la casella di input comprende l'altra cella della tabella in cui ci metto il bottone di submit e poi finalmente avrò il barra form e il barra tr se proviamo a validare l'html ci spara addosso perché il form non si potrebbe mettere qua ma il browser di solito sono abbastanza buono nello stesso proviamo a vedere solo un attimo a eseguire questa pagina a vedere cosa succede esatto mi crea questo lista della spesa con nessuna voce e sotto una casella di testo con scritto aggiungi adesso non abbiamo ancora la 2 aggiungi.gsp ma direi che in 2 minuti lo riusciamo a fare così riusciamo a vedere qualche cosa e poi ci fermiamo aggiungiamo il do aggiungi.gsp ah sempre senza estensione la quale via tutto perché è un controller use bin ha bisogno del bin di sessione poi volendo dovrei costruire un ricordiamoci c'è un dato che arriva dalla request noi sappiamo che con use bin e set property è possibile travasare i dati dalla request direttamente dentro i campi di un bin però qui c'è una stringa un campo solo che è una stringa sola vado a costruire una classe un bin solamente per quello soprattutto perché ho detto che lo faccio in 2 minuti no allora non sono obbligato a usare gli strumenti più potenti se non mi servono vado in java a mano a mano a manina e farò string ring voce uguale request punto get parameter del campo voce controllo solo un riflesso condizionato che ogni volta che scrivo get parameter devo sempre andare a controllare questo si è giusto e dopodiché chiamo il bin che si chiama lista spesa punto aggiungi voce fatto forward page uguale view lista punto gespy e se tutto va bene è finito finita la funzionalità di aggiungi per carità quindi ricarichiamo questa pagina non c'è nulla aggiungi il famoso prosciutto e l'ha messo vediamo se anche il salame scusate ma voi siete andati a mangiare un panino io no quindi eccetera adesso mancano le altre funzioni per carità ma queste potete giocarci per tutto il weekend e dopodiché mercoledì vediamo insieme un modo possibile per implementare sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.